Camino! 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 Camine! Camino! Vamos! Vida que um ladrões! T bandwidth, t Nextеры! Pelo menos nada! Gente, ladrões! Pelo menos nada! Vamos! Cap Estoy ond ситуáytyy! Vamos! Cuidado nada! Novena passione, Gesù cae per la tercera vez con la cruz. Come cordero llevato al battaglio, Gesù vuole a caer, e una vez más vuole a levantarsi. Apenas qui le puoi saciare, però una y otra vez se repite. Aquí estoy io, Signore, per essere il comune. Incluso una morte, e morte di Gesù. Gesù sigue subito la passione, che è in casa, al final di Gesù fuori, non sarò, non sono solitari a primi, è in culpondri, in cui si sienta la pastura e l'ancio della vita. E a queste pregunten, se tiene senti o seguire vivi, si o σε senti o seguire vivi, a qualcuno che le prese cariño e cercanìa. Oremos. Seguire, questo si non si non si può, ho bisogno di aiutare. Pedona a tu pueblo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.